Morgan, ti ora non vedi l'antà mi sacco New York Yankees da Ghana a Boston Ti ora vedi l'antà mi sacco Juventus, Cristiano Ronaldo da Ghana a Barcelona C'è sabra ora pacchiao tu herman, mi sa vedi l'antà con pacchiao da Ghana E ho paquico mi d'insegno, ma mi dobbia l'opeto Explica'me con taunga placa E tu sei, guac, lo que nostre manzi di maniera mas facile Corda, sempre responsabile Ando con, facile Bota llega si bossa ma ne bota bisa Hey Yankees da Vigano eh bota t'hien feeling bota sindiele Bin, race, en sportsbook di princess casino Fácil bota llega Bota llega bota pidi pa bo odds di baseball, bo line shit E vor bestellen i vorko abenochi Yankees da bota gana Boston sei spana da Ok, bota bing fasi bota pidi bo bo sheet di baseball, MLB Bota hai a tour, bota hai a bo number, bota hai a bo pitchers, bota hai a bo odds di chi conanta Bota hai a bo total, bo bo bet over of under Ando assini bota place bo bet Na, nos cashier, bota hai a bo ticket E ora bogaan bota bing, bona duna bo ticket E cashier te swipe e pagabo me sora Ok, bon, princess am race and sportsbook Baseball te uno Baseball te uno Baseball te nos deporte mas gusta Passobre dicon Nos timopi yukersout un ando Glopt Laga nos te sincero Nos gusta nos soccer Passobre timopi yukersout ame gusta Nos futbol Nos teme soccer Passobre american futbol tame den Pa bom broa Pa bom broa qua ta qua Se nos queda rostas tambe a bossa Cu nos fighting de boxing Ta hopi stimar pa nos en el local Cu mito macho contento manera de sabro vome este in Pacquiao There they are ladies and gentlemen Manny Pacquiao vs Keith Thurman WDBA welterweight championship of the world On Fox Sports PBC pay per view this Saturday night Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada Manny Pacquiao Bo vengai ya Domingo noj in bannebo Ya Domingo noj ste bannebo A metà quarta temporada con Pacquiao a Briga con Mayweather, a metà Pacquiao, però Mayweather è il favorito, già sapevo ora, chi è il favorito? C'è il men 1.55, ma il tournament è plus 1.21, ma cosa passa? Il favorito è sempre di un men di lante, ma anche se è un underdog, è sempre di un plus di lante. Il banko è un forbello chiquito, il banko è un forbello di 100 dollari. 100 dollari? Se è il plus, il loco è di una, il 100 che ti gano il trascimento di un plus, per esempio il plus 200, 100, per me ti gano 200? Mi ti gano 100 dollari e 200 dollari. Se mi gano 1000 dollari, mi ti gano 1000 dollari e 200 dollari. Correggio! Correggio! Il resto è il favorito. Il favorito è un men di lante. Il banko è un 100 dollari, ma il mio è il favorito. Il loro è il favorito, il loro è il men che si paga il men per per ganare 100 dollari. Ma se è il favorito? Ma se è il favorito! Ma se è il Stormizzero. Se menghi così, divergence ha avuto un premio d' tagged una parte. Ma se è il mio è il 3 cibo da questa passata. Il loro è il 4 passo, i 10 ovari, il loro è il 3 cibo. E' il 3 cibo è il 4 cibo, il loro mercato. Ma se è il 3 scelta della passata e il 4 cibo è il 4 dei soldi. alcune delle potenti, sono le 3 cibo dietera. C'è il 5 top. Ecco mio, che la passata di un 5 batti. La passata di un pesco, il il 20�, il 4 sco. ma non sono qui per chugger Manny Pacquiao, non sono qui per patto il cuore, sono qui per l'amore. Mi amore, mi amore, sto qui, si, per Pacquiao, Manny, che teneremo che fare, 5 mil dolari, 5 mil dolari, 5 mil dolari, Pacquiao, per chassar, bro. Ok, un master, si non è certo.